se devi simulare una texture particolare con l'erografo e l'uso di qualche stencil sorprendente puoi ottenere degli effetti veramente singolari e molto verosimili oggi ti mostro un espediente per realizzare un bellissimo effetto quello del piumaggio di un uccello in questo caso un tucano ti occorre qualche vera penna di gallina che devi spruzzare con un po di colore prima di utilizzarle perché il colore asciutto fissa le piume più leggere irrigidendole e facendo in maniera che non si muovono sotto l'aria compressa fai prima una prova sul cartoncino stendi un po di nero che rappresenta il piumaggio del nostro uccello poi usa la penna come stencil e realizza questo effetto qui a questo punto ti sposti sul tuo disegno e metti in luce le piume che essendo leggermente più chiare staccheranno dalla texture del piumaggio scuro di fondo ti è piaciuto questo effetto immagino di sì ciao alla prossima e buon lavoro con l'aerografo